identificati e denunciati otto ragazzi di una violenta rissa fermignano green pass obbligatorio per la fiera di san nicola l'annuncio del sindaco ricci giro di boa per la stagione estiva bilancio degli albergatori sabato 24 luglio arriva il festival enogastronomico di via passeri cali city benvenuti al nostro telegiornale rossini news oggi è martedì 20 luglio questa sera in apertura parliamo di cronaca perché sono stati identificati e denunciati otto soggetti che hanno preso parte ad una violenta rissa che ha avuto luogo a fermignano lo scorso maggio i dettagli in questo primo servizio sono stati identificati e denunciati otto soggetti del polto gruppo di giovani che tra il tardo pomeriggio e la serata dello scorso otto maggio hanno dato il via ad una grande rissa fermignano all'esterno di un esercizio commerciale le collutazioni tra i presenti si sono verificate in più momenti ma l'episodio centrale è stato ripreso e caricato sui social più precisamente su un gruppo facebook diventando virale e raccogliendo in poco tempo numerose visualizzazioni che hanno permesso ai carabinieri della stazione di fermignano di venire a conoscenza dell'accaduto sono stati almeno tre i giovani che hanno poi ricevuto le cure mediche per le lesioni riportate due di questi si sono recati al pronto soccorso di urbino mentre un altro è stato raggiunto da un'ambulanza arrivata sul posto dello scontro allo stesso tempo non si esclude che altri ragazzi abbiano rifiutato le cure per non essere successivamente refertati i ragazzi coinvolti nella rissa sono per lo più maggiorenni di età compresa tra i 18 e i 22 anni gli otto giovani identificati e denunciati piede libero tutti provenienti dall'entroterra della zona urbinate ovvero dai comuni di fermignano urbani a qualagna nel momento dello scontro erano divisi in due fazioni contrapposte le indagini dei carabinieri sono ancora in fase di aggiornamento per ricostruire le dinamiche esatte dell'accaduto anche se pare che gli episodi violenti siano partiti da un semplice screzio tra coetanei e sarebbero stati alimentati anche a causa dell'abuso di sostanze alcoliche tra le diverse testimonianze raccolte dalle forze dell'ordine c'è chi ha dichiarato di essersi trovato sul posto mentre rincasava o era di passaggio mentre altri soggetti hanno affermato di aver reagito per difesa dopo essere stati colpiti il locale all'esterno del quale si è verificata la rissa è stato multato per non aver seguito le norme in materia di sicurezza sul lavoro e sul fronte covid anche per non aver rispettato il protocollo e le misure di sicurezza anticontagio per gli stessi motivi oltre alla sanzione economica l'esercizio commerciale è stato chiuso per una giornata continuiamo a parlare di cronaca in primo piano con un'operazione condotta dalla squadra volante della questura di pesaro che in seguito ad una perquisizione nei confronti di un 49enne pesarese addetto alle consegne di latticini sul quale da qualche tempo gli agenti stavano osservando i movimenti e già noto alle forze dell'ordine per essere consumatore di stupefacenti ha trovato l'uomo in possesso di diverse dosi di cocaina la ricerca di altre sostanze poi è continuata all'interno del furgone condotto dal 49enne e all'interno di questo sono stati trovati altri grammi di cocaina l'attività di perquisizione è proseguita anche presso il domicilio dell'uomo dove sono stati inoltre rinvenuti 15 mila euro in contanti ritenuti il guadagno di diverse attività di spaccio per l'uomo è stato convalidato l'arresto per spaccio di sostanze stupefacenti questa mattina presso la sede della prefettura di pesaro si è svolto un incontro di coordinamento regionale sul tema dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio marchigiano per la discussione di un protocollo che velocizzi le procedure per accertarne l'età incontro al quale hanno preso parte prefetti questori comandanti provinciali dei carabinieri delle marche insieme al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minori di ancona regione e anci marche vediamo ora le interviste è un tavolo che è stato istituito nel 2015 che ha già lavorato molto negli anni passati proprio sull'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati appena venne emanata la legge 142 del 2015 e che oggi ha ripreso vigore ha ripreso vigore dopo questo periodo emergenziale covid proprio perché gli sbarchi dei minori stranieri sono aumentati e perché abbiamo varie esigenze operative sul protocollo già c'è un'ottima sinergia con tutte le forze dell'ordine le questure guardia di finanza carabinieri e oggi vogliamo che questa sinergia riesca a produrre un'accelerazione dei tempi delle procedure relative all'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati quindi per questo ci siamo riuniti l'esito è stato assolutamente favorevole sino ad oggi soltanto questo procuratore per i minorenni aveva emanato delle linee guida guida tre linee guida sulla materia e credo che arriveremo alla stipula di un importante protocollo in tempi molto brevi. Una giornata interessantissima che è stata prodromica vuole essere prodromica alla firma di questo protocollo in ordine al quale con la presenza di tutti gli attori competenti in materia abbiamo cercato di capire se c'era quello che c'era da modificare eventualmente da modificare quindi anche il procuratore il signor procuratore presso il tribunale dei minori di Ancona si è dichiarata disponibilissima ad apportare qualche piccolo accorgimento di natura tecnico operativa ma la giornata è importante perché segna l'impegno che la regione Marche ha assunto rispetto ad alcuni temi come quello dell'accoglienza o meglio della implementazione dell'accoglienza e soprattutto quello del coinvolgimento anche a pieno come peraltro il protocollo prevede dei servizi sociali dei comuni. Ecco alla luce di quelle che sono le indicazioni che sono emerse dalla riunione di da questo tavolo di questa mattina credo che a breve e comunque entro la fine del mese ci sarà un successivo tavolo che vedrà il coinvolgimento anche di diciamo della parte politica della della regione in modo da poter arrivare al noi auspichiamo entro la fine dell'anno ma se ce la facessimo prima alla alla firma del protocollo e quindi alla piena attivazione dello stesso sui sui territori sui vari territori della regione. Ed ora passiamo al nostro consueto spazio dedicato agli aggiornamenti sul coronavirus nel territorio regionale e provinciale. 2466 il numero totale di test effettuati con 1294 tamponi nel percorso nuove diagnosi e 1172 nel percorso guariti. 54 il totale dei casi positivi riscontrati con un percentuale di positivi rispetto ai test eseguiti del 4,2%. Dieci casi riscontrati nella provincia di Pesaro Urbino. Due pazienti ricoverati all'ospedale Marche Nord nei reparti non intensivi. Sempre due sono le persone che attualmente si trovano invece nelle aree intensive. Nelle ultime 24 ore è stato notificato un nuovo decesso legato al covid-19 e registrato nella provincia di Fermo. E proprio di questa mattina e ha suscitato diverso clamore e tanti commenti anche sui social l'annuncio del sindaco di Pesaro Matteo Ricci sull'obbligatorietà del Green Pass sia per i cittadini che per gli ambulanti per accedere alla fiera di San Nicola in programma quest'anno dal 10 al 12 settembre. Decisione che sta facendo discutere e per la quale sono già arrivate le prime voci contrarie a partire da confesercenti. Nella prossima intervista quindi sentiamo le dichiarazioni del primo cittadino. Sì l'anno scorso abbiamo rinunciato alla fiera per evitare assembramenti ed è stato un dolore farlo perché stiamo parlando di uno degli eventi più tradizionali della nostra città. Quest'anno abbiamo deciso di farla però con il Green Pass obbligatorio. Anticipiamo così delle decisioni che presumibilmente verranno prese a livello nazionale nei prossimi giorni. Credo che non dobbiamo più richiudere, non dobbiamo più rinunciare anche agli eventi più belli, penso a ritornare lo stadio, penso a ritornare al Palazzo dello Sport, però dobbiamo farlo nella massima sicurezza possibile e questo vale anche per la fiera di San Nicola e quindi la fiera si farà, gli ambulanti possono organizzarsi, da oggi va parte dell'organizzazione però sappiamo che coloro che parteciperanno, quindi ambulanti e cittadini dovranno essere vaccinati e avere il Green Pass. Quindi queste sono le regole che abbiamo deciso questa mattina, la macchina parte e crediamo di aver anticipato soltanto decisioni che prima o poi verranno prese anche a livello nazionale. Credo che debba prevalere la responsabilità, abbiamo bisogno di raggiungere l'immunità di gregge, gli eventi si devono fare, non possiamo ribloccare di nuovo l'economia e il turismo perché sarebbe una botta per noi devastante, però dobbiamo garantire la sicurezza sanitaria. Per garantire sicurezza sanitaria abbiamo visto che l'unico strumento è il vaccino, il vaccino funziona, ha fatto crollare la mortalità, ha fatto crollare i ricoveri, le terapie intensive, però come abbiamo visto il virus circola, le varianti sono in corso e quindi abbiamo bisogno di aumentare ulteriormente. Il Green Pass è uno strumento che incentiverà moltissimo, credo in particolar modo i più giovani che quest'estate si stanno giustamente divertendo, ma che devono divertirsi nella massima sicurezza possibile. Giro di boa per la stagione estiva 2021, dopo una tiepida partenza nel mese di giugno, gran parte delle strutture ricettive pesaresi sono pronte ad accogliere nel mese di agosto il maggior numero di turisti, soprattutto italiani, attesi in città. Ne abbiamo quindi parlato in questo prossimo servizio con il presidente dell'associazione pesarese degli albergatori, Fabrizio Oliva. Sorpassata la metà del mese di luglio, la stagione 2021 compie il suo giro di boa e titolari e gestori delle strutture ricettive possono tracciare un primo bilancio dell'estate che è stata e di quella che sarà. Se qualche ritardo e incertezza hanno dato il via le danze nel mese di giugno, agosto si prospetta essere il mese caldo per le partenze e gli arrivi nel pesarese, con la speranza che gli eventi già programmati favoriscano anche le presenze di settembre. Per quello che riguarda le prenotazioni, fino ad oggi le presenze sono state abbastanza basse. Dalla settimana scorsa a questa settimana invece gli alberghi vanno verso il tutto esaurito, il riempimento. Ovviamente questa è la media perché ci sono alcuni alberghi che sono pieni e altri che comunque hanno una presenza ancora non soddisfacente. È il momento che noi non abbiamo disdette per la minaccia della zona gialla delle Marche o per i contagi che aumentano. Certo bisogna fare attenzioni, voglio dire in altre località hanno già provveduto a combattere in modo serio gli assembramenti, producendo praticamente come effetto la chiusura dei locali, non solo per la gente che c'era dentro i locali ma anche per gli assembramenti che c'erano intorno ai locali. Allora io non chiedo questo alle autorità, ma chiedo di vigilare molto perché ovviamente ci sono al di là della musica, del rumore eccetera. Adesso il problema che temiamo di più sono gli assembramenti per il discorso del Covid, anche perché magari qualcuno di questi può essere anche cliente dell'albergo e quindi ci possono essere conseguenze serie. Quindi noi vorremmo finire, adesso ho una frase forte, vorremmo finire la stagione con serenità visto che questi ultimi 40 giorni, 50 giorni sono un po' il riscatto della situazione che possono portare comunque alle aziende alberghiere meno perdite, perché comunque questa sarà una stagione con un bilancio in negativo, però con molte presenze se tutto va come deve andare. L'anno scorso pur avendo aperto più tardi, quindi molti alberghi hanno aperto a fine giugno e primi di luglio, in realtà le presenze negli alberghi si sono avuti dalla fine di luglio e per tutto il mese di agosto. Quest'anno abbiamo in più il mese di settembre perché abbiamo due eventi sportivi importanti che sono i campionati over 40 europei di basket che dal 13 subito dopo la fine di San Nicola porteranno 1500 persone, quindi oltre più di 10.000 presenze e i campionati europei di ginnastica organizzati dalle esattori in collaborazione per la sistemazione alberghiere con l'APA che daranno lavoro per altre tre settimane, per cui è un settembre buono. A livello di bilanci probabilmente avendo aperto le strutture prima non è che è andata meglio perché abbiamo avuto dei costi fissi che non siamo riusciti ad ammortizzare, ad esempio nel mese di giugno, perché le presenze purtroppo sono state un po' al di sotto delle aspettative in giugno. I turisti a Pesaro sono per lo più italiani e ci sono anche stranieri? Ma direi quasi esclusivamente italiani, quindi veramente una percentuale sotto le delle cifre di stranieri, quindi anche il ROF quest'anno che ha dei posti limitati porterà sicuramente meno stranieri. Confermata anche per la seconda metà della stagione, la convenzione relativa al prezzo calmerato dei tamponi per dipendenti e turisti e l'attivazione di nuovi posti auto nell'area del Santa Marta per i clienti delle strutture ricettive di Levante. I tamponi rimangono le convenzioni con le farmacie comunali che con 12 euro a chiamata si fa la prenotazione e si fa immediatamente a fare il tampone veloce, quindi nelle farmacie dei via le fiume di Soria. Per quello che riguarda i parcheggi, proprio stamattina abbiamo finito di mettere i cartelli, quindi partite a questa iniziativa di 60 posti auto fino alla fine di agosto. Già alcuni albergatori hanno provveduto a ritirare i coupon presso l'associazione di albergatori. Vorrei anche precisare che i parcheggi non sono gratuiti perché comunque un contributo l'abbiamo dovuto dare e quindi abbiamo dovuto ripartire poi il costo, però l'importante è risolvere il problema, non è un problema di costi. Nell'aderire all'iniziativa dei mercoledì di Via Passeri, la Fondazione Cassa di Risparmio Pesaro apre Palazzo Montani Antaldi, proponendo la visione all'interno del cortile dei video che tra l'altro abbiamo trasmesso anche noi di Rossini TV di Palcoscenico Marche, progetto inteso a promuovere le ricchezze architettoniche, artistiche e culturali del nostro territorio, in abbinamento a performance di diversi artisti. L'appuntamento è fissato quindi per ogni mercoledì a partire dalle 21.30, l'ingresso è libero. Giovedì 22 luglio avrà luogo la seconda serata della quarta edizione di Notte Oliveriane nella suggestiva cornice del cortile della Biblioteca Oliveriana. Si terrà una conversazione musicale con la musicologa Maria Chiara Mazzi e il clavincembalista William Peric di Musiche a Meni Loci. L'ingresso è gratuito con posti limitati nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Le città del Tartufo delle Marche si riuniscono per la prima volta in un evento dal titolo Tartufo Award 2021, città del Tartufo delle Marche. L'appuntamento sarà martedì 27 luglio alle 12.30 all'hotel La Ginestra a Passo del Furlo. L'evento si inserisce nell'ambito di un progetto di valorizzazione del Tartufo, sostenuto dalla regione Marche, che mira a promuovere le città del Tartufo. Protagonisti dei show cooking e della giornata, sei chef nelle rispettive città del Tartufo, che si esibiranno nella preparazione di un piatto al Tartufo Nero Estivo. Nella cornice degli eventi estivi promossi dalla Proloco di Petriano si inserisce anche la serata di sabato, 24 luglio, dedicata allo street food per promuovere le eccellenze gastronomiche del territorio e alla quale hanno aderito anche le Proloco di altri sei comuni. L'appuntamento è a partire dalle ore 18 al borgo di Petriano in Via Toti. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 328-104-3341. Arriva sabato 24 luglio Cali City, l'estate in un sorso, il primo festival enogastronomico di Via Passeri, dedicato alle cantine della provincia di Pesaro Urbino e alle piccole specialità preparate dai punti ristoro presenti appunto in questa via. Sentiamo un'anticipazione e quindi in queste prossime interviste. Un'iniziativa realizzata da Riviera Banca e i comuni di Pesaro in collaborazione con l'APA, la Cofcommercio, per promuovere il vino del nostro territorio, le cantine del nostro territorio in un momento diciamo di uscita speriamo dai problemi della pandemia ma è un periodo in cui le cantine in particolar modo hanno particolarmente sofferto e quindi anche un modo per mettersi assieme, chiamare raccolta i produttori del territorio, presentarsi alla città, ai pesaresi, ai turisti di sabato 24 luglio, quindi un'iniziativa direttamente pomeridiana e serale in cui si potrà appunto passeggiando per Via Passeri con un ticket per 4 assaggi a 14 euro fare un viaggio insomma immersivo tra le cantine del territorio, quindi prevalentemente Bianchello ma non solo insomma i vini ricoli pesaresi che vengono prodotti nella nostra zona e fare questo non solo incontrando 19 produttori che è già un dato importante ma anche i ristoranti, le attività del centro che parteciperanno preparando propri finger e street food legati appunto alle degustazioni. A che ora avrà inizio e come si farà per partecipare? Avrà inizio alle 18, ci si può presentare sia dall'ingresso di Piazzale Lazzarini sia dall'ingresso di Via Passeri e appunto prendere un biglietto e avere anche il calice della manifestazione con una borsetta a porta calici, quindi comoda anche per spizzicare dei vari finger e quindi fare questo percorso, questo viaggio tra i vini del territorio. Quest'evento oltre a valorizzare i prodotti enogastronomici del territorio dà un'opportunità anche alla Via Passeri o comunque alle vie del centro storico perché in questo modo creiamo un evento che non è sempre collocato negli stessi posti e oltretutto ha una particolarità che è l'assaggio del vino, quindi puntiamo alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici del nostro territorio e la cosa bella è stata la sinergia che si è creata tra le cantine e i ristoratori e devo dire che c'è stata una grande partecipazione a questo progetto è circa un anno e mezzo che lavoriamo insieme a Confcommercio, a Pautel e anche all'ambasciatrice Nicoletta Tagliabracci che preparerà il convegno. È un evento che ci crediamo molto, ci abbiamo lavorato, abbiamo coinvolto anche la scuola, il liceo Mengaroni dove ha creato il brand e quindi il 24 luglio invitiamo tutti a Cali City in via Passeri dalle ore 18. Riviera Banca è un importante partner per questa iniziativa? Sì, Riviera Banca è una banca di credito cooperativo molto radicata sul territorio. Per Riviera Banca la persona è al centro di ogni interesse, quindi quando ci sono iniziative, ci sono attività che in qualche modo coinvolgono le persone, coinvolgono gli imprenditori, Riviera Banca c'è, anche perché è un momento così particolare che bisogna lavorare tutti insieme per la ripresa. Ecco, noi intendiamo spingerla, sostenerla questa ripresa, vogliamo dare coraggio a tutti gli imprenditori, a tutti coloro che hanno bisogno, vogliamo immettere nuova liquidità sul territorio, perché serve appunto agli imprenditori. Ed ora ci spostiamo a Urbino perché si è tenuta ieri a Palazzo Ducale di Urbino appunto l'inaugurazione della mostra curata da Vittorio Sgarbi Perugino, il maestro di Raffaello. Noi eravamo presenti e vi raccontiamo tutto in questo prossimo servizio. Il Palazzo Ducale di Urbino dedica un'interessantissima mostra a un maestro del rinascimento italiano, il Perugino, maestro di Raffaello. Frutto della collaborazione tra la Galleria Nazionale delle Marche, la Regione Marche, il Comune di Urbino e curata da Vittorio Sgarbi. Continuiamo, forse in attesa del centenario di Perugino che ricorre nel 2023, a studiare Raffaello il rapporto con quello che è sul piano emotivo la cosa per me più intima e carica di sentimento. Cioè l'amore che suo padre Giovanni Santi, che era veramente urbinate, nato urbino, attivo qui, attivo alla Corte, mentre Raffaello non lo è. Di fatto i suoi capolavori li fa subito fuori, ci sta di Castello, poi a Perugia, poi a Firenze, poi a Roma e non ci sono opere sue qua, se non la muta che è arrivata dagli uffizi durante il ventennio fascista, quindi c'è un simbolo. Però di fatto il padre è urbinate e attivo in Montefeltro e ama a tal punto il figlio e tanto lo sente come il capolavoro della sua vita che si rende conto che ha dei limiti e cerca un maestro per lui, che sia il suo secondo padre, anche perché morirà quando Raffaello ha 11 anni, morirà nel 1494, e a quel punto è riuscito però a compiere il miracolo. Il più grande pittore del tempo, che poi sarà Raffaello, ma in quel momento era Perugino, accoglie Raffaello giovane, 11enne, nella sua bottega. Questo momento è talmente meraviglioso che basterebbe raccontarlo, qualcosa che poteva emozionare, non so, Tonino Guerra o le persone sensibili o Giovanni Pascoli, perché è proprio l'intensità dell'amore del padre per il figlio. E però si può anche rappresentare con opere per capire quale affinità, quale contiguità, e soprattutto a Fano, dove lavora nel 1497 perugino, già Raffaello è sicuramente con lui, ha 14 anni e quindi qualcosa, un volto, una mano, anche con il padre, sicuramente a 9-10 anni era intervenuto, ma non è riconoscibile il suo stile. Invece maturare il suo stile dentro la bottega di Perugino è cosa che il Vasari indica e dice, perché vuole per l'appunto far capire che i due sono talmente simili che si confondono. Quindi Perugino sembra Raffaello, Raffaello sembra Perugino, e noi in questa mostra tentiamo di far sentire questa situazione e questa singolare coincidenza. Questa mostra che Vittorio, il mio prosindaco, ha voluto fortemente, ma è la continuazione, come ha detto lui, delle celebrazioni, perché purtroppo il 2020, che è stato l'anno delle celebrazioni di Raffaello, e celebrare insieme a lui il suo maestro, è veramente un onore in questa città e quindi questa bellissima mostra che è stata allestita, vuol dire anche ripartiamo in modo adeguato, con attenzione, però dobbiamo avere la spinta per ripartire. Quindi questa mostra vuol far ripartire Urbino insieme a tutti quanti per cercare di ripartire, ma in sicurezza e quindi approfitto di questa occasione per invitare tutti a vaccinarsi, perché è l'unico modo per uscire da questa condizione che ci renderà liberi. Quindi questa mostra io la voglio dedicare alla libertà del nostro popolo e per essere liberi a vaccinarsi. Questa è una mostra straordinaria che finalmente inauguriamo qui in presenza, perché questa presenza ci è mancata tantissimo in questo periodo di chiusure. Celebriamo questo 500 centenario di Raffaello con il perugino che poi è stato il suo maestro e quindi questo è un percorso di una mostra che ci dà anche un messaggio importante di come sia fondamentale l'insegnamento anche nell'arte. Sì, e quindi io essendo anche assessore all'istruzione, ecco abbiniamo cultura e istruzione, come l'arte viene tramandata. E devo dire che in questo caso abbiamo visto come anche l'allievo supera il maestro. Quindi è una mostra che ci dà anche questo insegnamento e spero, visto che siamo in questo periodo di riaperture, che tantissimi turisti, tantissimi marchigiani anche, che verranno a visitarla perché ne vale veramente la pena. E come Regione Marche siamo stati veramente contenti di sostenere una mostra di livello come questa. Ringrazio ovviamente Vittorio Sgarbi che ha curato tutta la mostra. Abbiamo inaugurato recentemente anche ad Ascoli una mostra sempre curata da lui. Quindi diciamo che le Marche adesso sono piene di eventi e quest'estate insomma si sente ancora più la presenza della cultura, della bellezza che comunque finalmente ci inonda e ci fa rinascere per una bella ripartenza. E allora vi consigliamo vivamente di andare a visitare questa bellissima mostra che si terrà a Urbino appunto fino ad ottobre. Invece adesso siamo in chiusura di telegiornale. Prima di dare la linea al meteo vi ricordiamo che questa sera alle 21.15 vi mostreremo il Palazzo Ducale con le sue nuove stanze, cioè quelle stanze che da tempo non vengono visitate dai turisti. Il prefetto di Pesaro Urbino ha appunto aperto le porte di questo meraviglioso palazzo. Vi daremo le indicazioni su come prenotare la vostra visita e vedere la bellezza di questo monumento storico. A seguire, verso le 21.30 e 21.32 circa, invece ci spostiamo a Urbino per raccontarvi la campagna di comunicazione dell'Università di Urbino. quindi campagna di comunicazione 2021-2022. E poi avrete già visto il nostro logo che si è rinnovato completamente. I prossimi giorni vi racconteremo anche il lavoro che c'è stato dietro allo studio con professionisti addetti al rebranding appunto, che ha creato appunto questo logo. un logo innovativo che chiaramente si adegua alle imminenti situazioni tecnologiche e digitali e sempre più predisposto per la comunicazione. E quindi questo, spero vi piaccia, il nostro nuovo logo, il nuovo marchio di Rossini TV. Ho detto davvero tutto, come sempre vi ringrazio per essere stati con noi anche questa sera. L'appuntamento con l'informazione su Rossini TV torna domani mattina alle 7.20 con la prima edizione della nostra Rassegna Stampa. Grazie. Grazie. Grazie.